Niente, oggi siamo qua per l'ultimo giorno come lavoratori a Ecc Sivideacola. Da mezzanotte per noi saremo disoccupati e senza lavoro. Siamo qui soltanto per scambiarci i saluti, gli abbracci, però la cosa che ancora non riusciamo a capire è la rabbia, la delusione della mancanza anche di una parola di conforto da parte di qualche politico locale per il dramma che sta succedendo intorno a noi. Vi sentite abbandonati dalla politica? Abbandonati assolutamente. In questi giorni non si era aspettato una minima reazione del territorio, di qualche politico, non lo so, anche dalla società civile. Questo è un dramma per la società, è un dramma sociale. Da domani avremo 1092 nuovi disoccupati. Grazie a tutti.